Off-limits alla politica nella sanità leccese. Ad accendere il semaforo rosso il direttore generale Valdomellone, che in una lettera indirizzata ai massimi dirigenti della ASL chiede di evitare incontri con esponenti politici fino al termine della campagna elettorale amministrativa. Questo spiega Mellone al fine di non incorrere in spiacevoli illazioni sull'imparzialità dell'azienda e sulla sua terzietà rispetto alle vicende elettorali. Una decisione che a pochi giorni dalle accuse rivolteli dal PDL. Pensi alla sanità e non alla campagna elettorale, aveva detto compatto sabato scorso nel corso di una conferenza stampa, ipotizzando coinvolgimenti di dirigenti di spicco dell'azienda ospedaliera leccese, come lo stesso Mellone, nella politica locale, in particolare nel sostegno alla candidata sindaco Loredana Capone, presente all'inaugurazione del nuovo Day Hospital di ematologia del Vito Fazzi. Accuse pesanti di sanità politicizzata che Mellone respinge dettando le regole. I rapporti con le forze politiche dovranno tenersi per iscritto, eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate con la cautela e con il rispetto dovuto all'importanza delle funzioni svolte, tenendo però a precisare che la disposizione non influisce sulle prerogative, sui poteri di accesso e di controllo istituzionali che i politici spettano nell'esercizio delle funzioni di pubblico amministratore.